ciao amici di now io sono tornata con la voglia di fare allenare tutti ma proprio tutti ma proprio tutti anche le persone che hanno problemi di ginocchio le persone che hanno problemi di schiena magari se incinta e non vuoi fare le cose troppo aggressivo così io voglio farvi vedere anche come allenarvi sulla vostra sedia ok così piccola marcia piccola marcia piccola marcia proprio per riscaldarci ok scendiamo e salgo su ancora scendo giù e salgo su ancora due volte scendo giù salgo su ancora giù giù e torno su braccio su due 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 ancora due 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 dammi singoli 8 7 6 5 4 3 2 ok scendiamo giù 1 2 salgo su ancora 1 2 salgo su ancora due volte 1 2 salgo su ultima 1 2 dammi due destra 2 2 2 singolo vado 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 ancora due 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 singolo 4 3 2 ok alza 8 7 6 5 ancora 4 3 2 cambia gamba 4 4 3 2 e cambia gamba 4 3 2 e cambia gamba 4 3 2 ancora 4 3 2 ancora 4 4 3 2 dammi due 2 2 piccole torsioni di busto ancora 2 2 dammi singoli 5 4 3 e faccio 8 7 6 5 ultima 4 3 ultima 4 3 da capo scendo 1 2 3 salgo ancora 1 2 3 4 salgo 1 2 3 4 salgo 1 2 3 4 salgo domina di tesi 1 2 3 4 2 a destra andiamo 2 2 2 2 dammi singoli vado 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 Ok, proprio per ricominciare a muoversi, anche se non ci siamo mossi per l'ultima 200 anni ci siamo, dammi quattro e quattro, tre, due, cambio di gamba, quattro, tre, due, altro quattro, quattro, tre, due, cambio, quattro, tre, due, 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 ancora, due, due, Dammi singoli, andiamo, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ok, spingo verso basso, sto spingendo adesso, sto spingendo verso basso, ok, tecnicamente mi sto sollevando, ok, spingo verso basso, ok, state proprio tremendo, ok, non sto sollevando il ginocchio, sto spingendo, dammi, due, 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 quattro, Spingo, spingo, singolo, singolo, piccolo, piccola marcia, ok, ok, e una pressione verso basso, ancora, dammi due, 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 spingo, spingo, quattro, tre, due, marcia, eight, seven, six, lo sentiamo proprio si attivano tutti i muscoli, ok, da capo, andiamo, un, due, tre, quattro, torno, ancora, 1, 2, 3, 4, torno, 1, 2, 3, 4, torno, ultima, 1, 2, 3, 4, braccio a destra, 2, 2, 2, 2, 2, singolo, vado, 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 ancora 2, 2, 2, singolo, singolo, 4, 3, 4, a destra va, 4, 3, 2, 1, e 4, 3, 2, di nuovo 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, dammi due, 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 ancora, due, singoli per 8, e vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e spingo giù, spingo, 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 devi spingere verso basso, 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 marcia, 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 ancora, 4, 3, 2, spingo, faccio, 1, 2, spingo, spingo, come se stessi provando di sollevarti dalla sedia, e vado, 2, 3, 4, 4, 5, 6, allargo, occhio, su, e giù, 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 su, ancora, 4, ancora, 3, ancora, 2, ancora, 1, marcia, marcia, 1, ancora, ancora, vai, vai, sollevo, su, e 2, ancora, 3, occhio, da capo, chiudo, 1, 2, 3, e 4, va, 1, 2, 3, 4, ancora, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, ok, doppio braccio, 2, 2, 2, 2, singolo, singolo, ok, me up for 4, and, andiamo, 4, 3, ancora, and, 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, ancora, and, 4, 3, 2, dammi, 2, dammi, 2, 4, 3, 2, 3, 2, e scendo giù, 2, spingo, 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 2, 2, 2, marcia, singolo, 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 la pressione è verso basso, ancora, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, singolo, marcia, pronti per andare in gran plie, ok, 4, 3, apro e vado, su, 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 ancora, 4, 3, 2, dammi una marcia, and, marcia, 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 4, 3, 2, and stop. Oh, avete visto che vuol dire che anche da seduta ci possiamo allenare, vedi, ti puoi veramente aiutare a qualsiasi momento della tua vita, a qualsiasi momento della giornata, anche in ufficio, a fare qualcosa per tenervi veramente allenati, e sono contentissima qui su Now di darti tutte queste opportunità per avere un allenamento per ogni giorno. Ti mando un bacio enorme, spero che passate una giornata splendida e ti aspetto per il prossimo allenamento insieme qui su Now. Baci da Gili!